Anche a Gran Michele oggi sabato 5 e domani domenica 6 si svolgerà attraverso i volontari la giornata dell'Unicef nazionale campagna Vogliamo Zero, campagna in cui attraverso delle offerte e delle donazioni si potranno ricevere quest'anno non la piantina dell'orchidea ma direttamente semi così anche potranno sperimentare questa nuova esperienza di coltivare direttamente un'orchidea. Ma siamo qui insieme ad Aurora, la volontaria che insieme alle altre per Gran Michele ci facciamo spiegare direttamente tutto da lei. Ciao Aurora, spiegaci, giornata Vogliamo Zero. Allora, oggi sabato 5 ottobre e domani domenica 6 ottobre in tutte le piazze italiane e anche qui nella piazza di Gran Michele aderiamo all'iniziativa delle orchidee per l'Unicef che contribuirà a raccogliere fondi per la campagna Vogliamo Zero. Quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo pensato di fare un gesto simbolico utilizzando i semi di orchidee piuttosto che la piantina di orchidee in modo tale da fare crescere la piantina così come si fanno crescere i bambini cioè si prende cura della pianta così come ci si dovrebbe prendere cura della crescita dei bambini. Quest'anno con un contributo di 10 euro si donerà alla persona che vorrà contribuire questa lattina contenente semi insieme ad una tazza disponibile in tre colori, una tazza disegnata direttamente da Altan il disegnatore della Pimpa, un famosissimo cartone animato per i bambini e come diceva Santo poco fa tutti i contributi che riceveremo andranno a favore della campagna Vogliamo Zero che ricordiamo serve a combattere la mortalità infantile nel mondo per aiutare tutti i bambini del mondo. Grazie Aurora, invitiamo ancora una volta tutti i cittadini a venire in questo stand oggi sabato 5 e domenica 6 per contribuire a questo importante progetto a sostegno di tutti i bambini.